La normativa è approvata, è immediatamente eseguibile, quindi tutti coloro che vogliono recuperare vecchi fabbricati agricoli possono presentare la concessione di Linsia agli uffici tecnici del Comune, l'ufficio urbanistico di Sant'Angelo dell'Isola e diciamo una quarantina di fabbricati, quelli di maggior valore sono conservativo, totale, così come più o meno erano già, senza modifiche. Tutte le altre possono avere dei miglioramenti e quindi recuperare 150 abitazioni considerando che ci sono delle agevolazioni dello Stato per noi ci sembra abbastanza importante, le agevolazioni sono per il contenimento energetico, per la normativa sismica per renderle con l'aria che tira con i terremoti più robuste dal punto di vista sismico e quindi abbiamo buone ragioni per pensare che probabilmente presenteranno dei progetti di recupero piuttosto che costruire il nuovo, recuperiamo gran parte della storia, della cultura, delle tradizioni, delle nostre campagne, dei fabbricati rurali e quindi questo è il senso di questo provvedimento che noi riteniamo molto importante. C'era una legge, una legge degli anni 90 che prevedeva che ogni comune doveva fare il censimento di tutte le case rurali e di queste scegliere quelle che avevano delle qualità da un punto di vista della tipologia tipica della casa rurale marchigiana da un punto di vista storico architettonico e queste salvaguardarle. Noi avevamo un elenco molto numeroso che prevedeva anche tutta una serie di edifici che forse questi grandissimi valori da un punto di vista tipologico architettonico non avevano e nel tempo una parte di questo patrimonio non recuperato anche per le difficoltà operative e tecniche che c'erano magari per fare il restauro conservativo sono diventate dei ruderi o sono state abbandonate. Questa normativa cerca di intervenire con la ristrutturazione anche se non è previsto lo spostamento, lo scivolamento della casa e la sua demolizione cercano in questo modo di agevolare l'intervento che il privato potrebbe fare. Se questo si unisce che forse l'edificio potrebbe fruire anche di finanziamenti di carattere nazionale dovuti agli incentivi come politica, noi pensiamo e speriamo che questo contribuisca a recuperare queste importanti parti del nostro territorio che costituiscono sia un valore economico ma costituiscono anche dei riferimenti ambientali importanti perché poi sono la storia del nostro territorio. Da quando è possibile fare questa richiesta? Noi abbiamo approvato una norma che è immediatamente eseguibile per cui da oggi voglio dire possono essere quelle situazioni che rientrano appunto in questa opportunità, in questa ristrutturazione possono presentare la domanda in comune per poter portare avanti il loro intervento che come dicevo a differenza di prima ha una normativa che in qualche modo gli aiuta.